Sono di fronte a te ogni giorno. Sono l'Italia innovativa, che ricostruisce su basi più solide. Sono l'Italia produttiva, che non si ferma mai. Sono l'Italia solidale, che non lascia indietro nessuno. Sono l'Italia accogliente, che valorizza le sue eccellenze. Sono l'Italia caparbia, che vuole vincere insieme a te. Con i BTP Futura sostieni il paese e la campagna di vaccinazione e dai forza al tuo domani. Sottoscrivili dal 19 al 23 aprile. BTP Futura, perché l'Italia cresce con te.